Domenica 12 luglio 2015 si svolgerà a Scario a partire dalle ore 16 e 30 la terza edizione della gara di pesca sportiva Memorial Giovanni Tancredi, organizzata dall'associazione Omlus Battiti di Pesca. Oltre alla gara di pesca vera e propria, si terranno a corredo della manifestazione alcuni eventi di rilievo, che arricchiranno la giornata festiva. Alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa per i pescatori e le genti di mare, con la benedizione del pane del pescatore e la preghiera del marinaio, presso il Monumento ai Caduti. Alle ore 20, presso la Casa Canonica di Scario, si terrà invece il dibattito mare e benessere, in cui verranno discusse le modalità di una corretta balneazione per chi è affetto da patologie croniche, come diabete, celiachia, distruzioni tiroidee, ecc. Interverrà al dibattito personale medico del presidio ospedaliero Immacolata di Sapri. In fine, alle ore 21.15, si procederà alla premiazione della gara di pesca.